si sta scudendo un uccellino ottimo, adesso la mamma sentirà il richiamo del piccolo e verrà qui a prenderlo io posso tornare al mio lavoro guardate, l'uccellino sta seguendo tata Susina è normale, perché di solito la prima cosa che vede un uccellino è la sua mamma e la prima cosa che ha visto lui è la tata e così crede che la tata sia la sua mamma ma io non sono una mamma uccello il piccolo è affamato e la mamma uccello dovrebbe nutrirlo non ho con me del cibo cosa mangia un uccellino? vermi e piccoli insetti Gastone è un insetto attento Gastone, forse è il caso che tu ti allontani un po' sarà meglio trovare subito dei vermi e come? usando il richiamo per vermi, fate così i vermi credono che stia piovendo e salgono in superficie guardate, è un verme è scappato via non dobbiamo darci per vinti proviamo di nuovo eccone un altro io mi arrendo sono difficili da prendere ma questo piccolo uccellino è molto affamato dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma di solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano ma non cinguetta abbastanza forte tata, usa la magia, fallo cinguettare più forte spero che la signora uccello ora non scambi me per un verme oh, tata Susina è in un nido di uccellini non c'è alcun pericolo finché le uova non si schiuderanno ecco appunto oh no, gli uccellini sembrano affamati oh, ci picchia le ali sono ancora bagnate tata Susina è un po' spiacevole ma in fondo è solo fango veramente credo che siano sabbie mobili tata Susina sta sprofondando sottoterra ben sono pronta per il salvataggio adesso fantastico decolla Gastone presto sbrigati tata cerca di resistere adesso proverò a prenderti all'asso per tirarti fuori di lì è troppo pesante Gastone, tira, non mollare oh, tata Susina hai un odore disgustoso beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo santo cielo sei proprio tu, tata Susina eh, sì, regina Cardo sto insegnando alle fatine delle importanti regole eccellente e quali regole delle fate hanno imparato? prima regola le fate devono sempre apparire carine capelli in ordine vestito elegante pelle luminosa e ben pulita eh, certo ora stavo mostrando alle bambine che cosa non devono fare regola due le fate non devono mai separarci dalle loro bacchette eh, sì, sì fragolina Riccardo non ci ha chiesto ogni minimo dettaglio sì, è vero sembri avere tutto sotto controllo tata prego, continua vi ringrazio, vostre maestà le uova si stanno schiudendo i piccoli del picchio ciao, io mi chiamo Ben e lei si chiama Ollie oh, sono così carini preferirei non fossero nel nostro appartamento se ne vanno secondo me vogliono provare a volare ma non possono riuscirci insegnerò loro come si fa le fate sono molto brave a volare e come sai io sono una fata ascoltate piccolini ora provate a imitare me volare è una cosa facilissima oh, non mi stanno imitando affatto forse è meglio cominciare con qualcosa di più semplice tu come hai imparato a volare? in realtà io volo fin da quando ero molto piccola non me la ricordo proprio la mia prima lezione di volo cominciate solo a sbattere le ali fate così ti stanno imitando tutti, Ben adesso sbattetele più in fretta e ora saltate stanno volando bravissimo Ben guarda sei riuscito a insegnare loro a volare anche se tu non ne sei capace ciao ciao picchi stanno andando via addio piccolini non mi dirai che ti mancano adesso no mi è entrato qualcosa nell'occhio le uova si sono già schiuse voglio segnare i piccoli nel mio libro sono volati via paparino e io ho insegnato loro a volare oh è già tanto se un ornitologo riesce ad avvistare i piccoli del picchio una sola volta nella vita e voi l'avete sprecato questa non ci voleva non riuscirò mai più ad avvistare un uccello raro pronta scusi Riccardo c'è un nido piuttosto strano al piccolo castello un nido? allora arrivo immediatamente tata dov'è il nido? è proprio al centro della mia cucina non devi dirmi niente voglio scoprire io di cosa si tratta ah non farlo pipiti popiti pu diventa piccola di più di più oh no la signora Fico continua a rimpicciolirsi sto diventando sempre più piccola e minuscola così non smetterà mai di rimpicciolirsi aiuto aiuto ah è meglio che la faccia crescere con un incantesimo in rima la faccio tornare come prima come si sente adesso? io sono parecchio 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 arrabbiata allora come avete visto bambini la magia riesce sempre a creare tanti problemi quelli erano due incantesimi veramente stupidi qualcuno di voi conosce invece un incantesimo utile? gelatina magica hai detto gelatina magica? sì è un incantesimo molto utile immagino che la gelatina abbia la sua utilità come alle feste di compleanno per esempio oppure un picnic o quando hai voglia di un dolce va bene gelatina magica ma voglio che sia una persona sensata ad agitare la bacchetta io io lo faccio io voi sapete chi è la persona più sensata presente qui? il vecchio saggio elfo allora sarà il vecchio saggio elfo ad agitare la bacchetta io? ma io non sono una fata e non so assolutamente usare la magia risposta esatta è lei la persona perfetta oh io non credo affatto no sta commettendo uno sbaglio non è vero ci vuole solo un pizzico di polvere di fata e lei adesso è diventato magico il mio corpo è tutto risplendente e questo non mi piace per niente non si preoccupi non rimarrà magico ancora a lungo adesso agiti la bacchetta e dica gelatina gelatina ma soltanto pochina eh gelatina gelatina ma soltanto pochina oh ha funzionato posso trasformare tata Susina in una rana voglio vedere se ci riesci sapete che vi dico è davvero divertente oh che cos'è successo vecchio saggio che cosa stai facendo mi diverto un mondo la magia non deve dei coniglietti dinosauri guardi a Tarquini i dinosauri piacciono molto oh va bene grandi denti è vero ora usate la vostra immaginazione chiudete tutti quanti gli occhi e poi provate a immaginare come poteva essere la terra dei dinosauri eh è sicura che questa sia una buona idea a me sembrano felici e anche tranquilli provate a immaginare dei grandi vulcani delle immense foreste dei dinosauri fate finta di essere veramente laggiù che cosa è stato la scuola deve essersi mossa Daisy Poppy avete combinato per caso qualche pasticcio non ti preoccupare Holly oggi sono state molto buone ed è quasi ora di tornare a casa è tutto così calmo e tranquillo che cosa c'è di diverso oggi dovete andare a prendere le gemelle le gemelle ecco che cosa c'è di diverso va bene tata ci vado subito buongiorno siete venuti a prendere i vostri bambini sì ma dov'è l'asilo è sparito però l'ultima volta i bambini hanno fatto sparire l'insegnante e adesso addirittura l'asilo si va a casa ben fatto signora elfo non è andata così male a parte il fatto che la regina è scomparsa oh è vero la regina ci vediamo domani bambini non correte oh ma dove siamo Daisy Poppy dove ci avete spediti dai dinosauri dai dinosauri oh no ci hanno mandati nel passato nella terra dei dinosauri come faremo a ritornare a casa niente panico c'è una risposta per tutto allora ci troviamo nella terra dei dinosauri 65 milioni di anni fa nel passato quindi qual è la risposta sto pensando mi è venuta un'idea forse potrei riuscire a far tornare qui l'asilo provare non costa niente la cosa importante è non farsi prendere dal panico l'asilo è sparito ora possiamo farci prendere dal panico nessun problema la faremo ancora più grande e ci servono delle zampe di papera su serio che zampe di papera sia e anche una testa di popotamo sul davanti che sputa fuoco siete sicure che vada bene forse dovremmo aggiungere delle ali di gallina così è perfetta forza andiamo a fare un giro cammina che terribile rumore buongiorno vecchio saggio elfo che ne dici della nostra barca mi sembra un po' buffa a dire la verità questa è una tradizionale nave vichinga oh no no che non lo è ti faccio vedere io una tradizionale nave vichinga signor elfo porta qui la nostra barca per favore ricevuto cosa succede non riusciamo a farla passare dalla porta perché è troppo grande questo è un po' imbarazzante forse vi serve l'aiuto delle fate per tirarla fuori sì per favore ehi bello tirala fuori beh con un po' di impegno penso che faremo in tempo ad aggiustarla buongiorno a tutti avete finito la mia barca certo vostra maestà oh ma che cos'è la vostra barca quindi ti ho chiesto di costruirmi una barca di cui nessuno potesse ridere e questo è quello che hai fatto sì vostra maestà di chi è stata l'idea della testa di ippopotamo è stata mia maestà mentre io ho pensato alle fiamme e le zampe quella è una mia idea vostra maestà io ho pensato alle ali di gallina con questa barca farò ridere tutti quanti lo so non vedo l'ora di scoprire com'è la nuova barca oh buongiorno che bello venervi qui portiamo sempre i nostri piccoli afi di col pedigree alla scuola per animali noi siamo qui con la nostra coccinella ti ricordi Lucinda Gucci e il piccolo Timmy? Timmy? di ciao alla coccinella Timmy? oh no Gastone sputa Timmy subito vi chiedo scusa guardate sta arrivando Miss Jolly chi è Miss Jolly? oh 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 grilletto calmo ragazzo buongiorno a tutti quanti io sono Miss Jolly buongiorno Miss Jolly siete tutti in orario grandioso molto bene Archie ottima postura Stanley però è simpatica sulla testa Bobby così va meglio bisogna sempre affrontare il futuro a testa alta un nuovo studente fantastico ditemi a un nome certo si chiama Gastone io invece Ollie io Ben e io sono Re Cardo ciao Gastone senta un po' signor Cardo perché Gastone non ha il guinzaglio? non ha mai avuto un guinzaglio assurdo il guinzaglio è necessario per addestrarlo lui non è molto addestrabile ma per favore tutti gli animali sono addestrabili da Miss Jolly ora gli dica seduto seduto su siediti ti prego lo vede è impossibile seduto bisogna essere fermi il suo animale deve capire chi comanda adesso faremo vedere a Gastone come si cammina il guinzaglio bravi miei ragazzi molto bene ci vuoi provare anche tu Gastone no non parli a Gastone in quel modo che comanda fra voi due beh ho sempre pensato a Gastone come ad un amico no è lei che comanda glielo dimostri Gastone pie... è un fuoco io ho paura è meglio scappare non è carino ciao piccolo che bello è così dolce Gastone si gentile si gentile con il cucciolo di drago basta coccinella cattiva come lo possiamo chiamare? che cosa ne dite di Tenerone? no invece si chiamerà Dentone perfetto Dentone a me piace di più il nome Coccolone partigli di fuoco che ne dite di Dave sarà Dave il drago sii Dave questo è il tuo nuovo nome Dave ha delle zampe enormi sono molto grandi questo significa che diventerà ancora più grosso ora che cosa vuoi Gastone e va bene prendi il bastoncino wow sei davvero intelligente lo sai? vuole che gli grattiamo la pancia ma quant'è carino Dave è l'animaletto più fantastico di tutto il mondo dove è andato Gastone? io non lo so oh beh non importa adesso abbiamo Dave principessa Ollie è ora di tornare a casa devo andare ciao a tutti ciao Ollie il drago ti sta seguendo no Dave adesso devi tornare a casa tua ma dov'è casa sua? lo hai fatto apparire tu allora forse non ce l'ha non importa puoi venire al castello con me di 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 da dum di di da di di da cata cata ciao bambini ah un cucciolo di drago il suono ditemi un po' come deve essere questa bambola piccola? bambola Susina ah ecco deve essere proprio così oh è molto chiaro Daisy Poppy fatemi tornare subito come prima sono bambola Susina dammi da mangiare certo sono sicuro che riusciremo a farne una copia esatta entrate pure bambini se adesso premo il tuo pancino mi canterai una canzone non provare neanche a pensare di premermi la pancia bambola Susina dolce piccolina lo sei veramente sei dolce e piccolina allora come farai a riprodurmi? utilizzeremo questa macchina copiatrice guarda come funziona prendiamo una pallina da tennis la mettiamo proprio qui sopra ed ecco a voi una copia esatta e adesso tocca bambola Susina a dire il vero avrei cambiato idea potresti togliermi di qui oggi non me la sento di essere copiata per favore non ti preoccupare tanto sei già stata copiata cosa significa? cosa significa? sì vostra maestà no vostra maestà come volete voi ma io non parlo così un pochino ti assomiglia però bambola Susina anzi è una copia perfetta certo e ora che abbiamo un campione di bambola Susina possiamo farne quante ne vogliamo un momento ne basta soltanto una per rendere felici le gemelle in effetti sono d'accordo una sola tata Susina è più che sufficiente perfetto adesso per favore mi potete trasformare? subito tata ah così va meglio ora tornerò al mio lavoro mia bambola mia mia bambola mia oh caspita vogliono una bambola a testa ma abbiamo promesso a tata Susina di non fare altre copie una in più che volete che sia se è per rendere le è tutto ok mamma sono soltanto alieni vengono dal pianeta Bong tutto a posto allora oh di poppa no non potete mangiarla Cardore allora è qui che prendi le tue importanti decisioni certo prendo continuamente decisioni importanti vostra maestra volete minestra o salsiccia per pranzo? credo la salsiccia tu sei molto saggio Cardore Cardo oh beh insomma faccio del mio meglio e ora dimmi Ben dove si trova la tua casa? io vivo in un albero albero? che cos'è un albero? eccolo qui il grande albero degli elfi ah capisco quindi un albero è una specie di condominio giusto? mi sono documentato sul vostro pianeta ciao Ben alieni sì papà ricordi gli alieni che abbiamo incontrato sulla luna? sono qui in vacanza oh certo quegli alieni buone vacanze allora oh putipo no neanche lui è da mangiare smettetela ah è davvero meraviglioso il vostro pianeta siete stati in vacanza su altri pianeti oh sì ma questo è il migliore vedi noi siamo piuttosto piccoli e sugli altri pianeti sono tutti molto grandi capisco andiamo su un altro pianeta in vacanza per rilassarci e stare in pace e invece veniamo accalpestati da gente molto grande non è per niente carino ah in realtà c'è della gente grande anche qui da noi che? sul serio? qui? ciao gente grande non preoccupatevi è solo la nostra amica Lucy è una bambina grande Lucy questi sono amici alieni sono venuti qui in vacanza ciao alieni sei davvero molto grande qui ci sei soltanto tu? ci sono mamma e papà stiamo facendo un picnic qui vicino allora ci sono tre persone grandi su questo pianeta oh no ce ne sono tante milioni e milioni molte sono più grandi di centro della terra apertura porte eccoci qua al centro della terra è enorme questa caverna piena di alberi e funghi giganteschi già è proprio come in tv beh forse manca qualcosa i dinosauri oh 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 eccone uno vedete la televisione non sbaglia mai ma adesso che siamo qui come troviamo la signora Foderigl? Gastone può annusare le sue scarpe! In questo modo riuscirà a trovarla! Geniale, Ben! Trova la signora Foderingil! Bravissimo, Gastone! Chissà quando incontreremo la tribù perduta! Tribù perduta? Che sciocchezza! Wow! Guardate là! La tribù perduta! Ve l'avevo detto! Ci sono elfi e fate proprio come noi! Dove andate? Chi transita qui per le nostre terre? Viaggiatori provenienti dalla superficie della terra maestosa! Vi do il benvenuto, abitanti della superficie! Noi vi ringraziamo, oh potente signore del sottosuolo! Tata, perché stanno parlando in quel modo strano? In televisione parlano così! Lasciate che vi polga i miei omaggi! In realtà siamo venuti a cercare la signora Foderingil! Ah! Quella che noi chiamiamo maestra! Sì! Deve essere lei! Buongiorno, bambini! Il mio nome è signora Foderingil! Salve, signora Foderingil! Oh! Buongiorno! Come va? Siamo venuti a salvarla, signora! E le abbiamo portato le sue scarpe! Oh! Le mie scarpe! È bello indossarle di nuovo! Quaggiù è tutto molto rilassante e piacevole! Un po' come una vacanza! Ma sono veramente felice di poter tornare a casa mia! Lassù nel mio mondo! Mia maestra! Mia maestra! Ah! Daisy! Poppy! Pensandoci meglio, credo che resterò qui! Cara signora, vuole essere salvata da noi oppure no? Oh! Io non lo so! Coccinelline! Coccinelline! Daisy! Poppy! Quelli non sono dei giocattoli ma dei piccoli di coccinella! Coccinellina! Eccoli qui! Quante piccole coccinelle dovrebbero esserci? Tre! Io qui ne vedo quattro! E una porta la corona! Oh no! È la mamma! Una di loro deve averla trasformata in una coccinella! Coccinellina! Coccinellina! Daisy! Poppy! Questo non si fa! Non si trasforma la mamma in una coccinella! Grazie, tesoro! Oh, cielo! Non preoccupatevi, Riccardo! Le coccinelle sono solo molto stanche! Già! Dov'è il tuo libro delle fiabe, Ollie? Sul mio comodino! La stanchezza sembra passata! Già! Se no è davvero piena di energia! Ho sempre amato questo libro! No, Gastone! Il libro non si mangia! Ora dormi, bambino, sul ramo frondoso! Il vento soffia e culla il tuo riposo! Ma il ramo si spezza! La culla cade giù! Cade il bambino e dormirà ancora di più! Vuoi dire che il bambino cade dall'albero? Non mi sembra molto bello! Sono d'accordo! Proviamo quest'altro! La storia parla di coccinelle! Coccinella, coccinella, vola via lontano! La tua casa è in fia... Oh, cielo! È una storia ancora più spaventosa! Cosa ne dite di questa? C'erano una volta, tanto tempo fa, tre porcellini! Puoi dire coccinelle invece di porcellini, Ben? Ok! C'erano una volta, tanto tempo fa, tre piccole coccinelle! E ognuna di loro si costruì una casa! Una era fatta di paglia, un'altra di bastoncini e la terza di solidi mattoni! E poi cosa succede? Beh, un giorno, un grande lupo cattivo arrivò alla casa di paglia! Si mise a soffiare e a sbuffare finché... Almeno questa storia ha un litofine, spero! È persino vestito da ape! Sì? Lasciatemi entrare! Ma a che cosa sta giocando? Che sta succedendo? Api! Api! Ah, sì! Anche a me un tempo spaventavano molto, ma poi ho scoperto che sono davvero utili! Ssss! E ora chi ha spento la luce? Seguitemi senza fare rumore, vostra maestra! Dove stiamo andando? Vecchio saggio elfo, è meglio che ci sia una ragione valida per tutto questo! Oh, santo cielo! Cosa stanno facendo quelle api? Ecco, le api hanno deciso che il piccolo castello è diventato la loro nuova casa adesso, vostra maestà! Cosa? Perché non provate a guardare il lato positivo? Potrete avere tutto il miele che desiderate! Come mai hanno deciso di venire qui? La verità è che hanno seguito me perché credono che sia l'ape regina! Comunque io non le voglio sul mio castello! Se le api scoprono che non sono lì dentro, mi seguiranno di nuovo! Oh, ho capito! Scusi, ma perché non me l'ha detto subito? Ciao api! Guardatelo, è qui! Qui! Portatemi via subito! Sta tranquillo, vecchio saggio! Ci penso io! Fermo! Mi lascia almeno il mio miele! Si avvicinano sempre più! Trova il modo per seminarle! Agli ordini! Tieniti pronto! Cerco di volare ancora più in basso! Scusa, ma non siamo vicini al lato! Ecco lassù l'ape regina! Anzi, il vecchio saggio elfo! Arrivano anche le api! Coraggio! La vostra ape regina sta entrando! E adesso? Avete capito come si ottiene un barattolo di miele? Posso farti diventare molto più piccola! Wow! Sono minuscola! Ora fai parte anche tu della gente piccola, Lucy! Rimarrò così piccola per sempre! No! Soltanto fino a domani! E poi tornerai grande di nuovo! Senti, potresti rimpicciolire anche lui! Ora anche tu potrai fare tutte le cose che facciamo noi! Oh! Allora posso salire in groppa a gastone! Ok! Ora tieniti forte alle sue antenne! Spingile avanti per partire... E poi spingile indietro per volare! Non spingerle troppo indietro! Farai il giro della morte! E' stato molto divertente! Posso vedere le vostre case? Ma certo! Vuoi vedere l'interno del grande albero degli elfi? O del piccolo castello? O venire a casa mia? Dov'è casa tua, Fragolina? Io e Violetta viviamo nel villaggio delle fate! Oh! Mi piacerebbe visitare il villaggio delle fate! D'accordo! Seguitemi! Siamo arrivati! Ecco il villaggio delle fate! Wow! E vivete dentro a questi funghi velenosi? Sì! Una volta vivevamo dentro a funghi commestibili, ma la gente grande li raccoglieva! Nessuno mangia i funghi velenosi! Non c'è la porta d'ingresso? Sì che c'è! E' una porta magica! Prima devi bussare tre volti! Poi girare su te stessa e dire apriti sesamo! Visto? Buongiorno a tutti! Buongiorno! Ciao paparino! Il mio papà è il sindaco delle fate! Sì! E sei arrivato giusto in tempo per la riunione! Quale riunione? Riunione straordinaria! Riunione straordinaria! Come vostro sindaco ho indetto una riunione straordinaria perché c'è della gente grande nel nostro prato! Due adulti, una bambina e il loro cane stanno facendo un picnic! Come tutti voi sapete, la gente grande è molto pericolosa! Può dirlo forte! Hanno addirittura calpestato mio nonno! Oh, grilletto! Fermo, piccolo! Buongiorno, bambini! Buongiorno, Miss Jolly! Siete tutti pronti per una bella cavalcata? Sì, Miss Jolly! Oh, c'è picchia! A quanto vedo ci sono anche dei cowboy fra di noi oggi! Hihah! Ricordatevi una cosa! Alle lumacche non piacciono i rumori forti! Sono molto paurose! Sì, Miss Jolly! Non preoccuparti, grilletto! Questo cowboy è il nostro amico! Bene, e adesso vi porto a conoscere le altre lumacche! Queste sono Dobbin, Muffin, Cupcake... Sono davvero adorabili! Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Sansone! Oh, Miss Jolly! Sì? Sansone non ha il guscio, come mai? Non ha il guscio perché è un lumacone! Un lumacone! Chi vorrebbe cavalcare un lumacone? Ascoltatemi bene! Non dovete mai camminare dietro alle lumache! Perché no? Perché potrebbero darvi un bel calcio! Ecco perché! Oh! Speedy ha un bel caratterino, vero? Dovete imparare a conoscere le vostre lumache! Allungate la mano! In modo che possano annusarvi! Ciao, Bobby! Sono piuttosto diffidenti! Hanno bisogno di tempo! Dagli una piccola pacca sul guscio! Coraggio, Bobby! Non avere paura di me! Ben fatto! È diventato tuo amico! Possiamo cavalcarle adesso! Non ancora! Prima ci aspetta del lavoro! Innanzitutto rassettiamo le scuderie! Che cosa vuol dire? Pulirle dalla popò di lumaca! Popò di lumaca! Prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò! La popò di lumaca puzza ed è anche molliccia! È questo lo spirito giusto! Bravissimi! Mi raccomando, dovete lavarvi bene le mani! Spegni le candeline! Dovrà soffiare molto forte per riuscire a spegnere tutte le candeline, giusto? Speriamo che non le dica di spegnerle tutte in una volta sola! E ricordati che devi spegnerle tutte in una volta sola! E ora devi esprimere un desiderio! Io voglio un bellissimo unicorno rosa! Fragolina, non farlo! Unicorno rosa! Wow! È un vero unicorno rosa! Si è avverato il mio desiderio! Eh già! Sorprendente! E adesso, bambini, la festa è finita! Non dimenticate i vostri pacchettini! Ciao Yasmin, ti sei divertita? Sì, il papà di Lucy ha fatto delle magie! Sì, è bravissimo! Che cosa cerchi con lo sguardo? Adesso basta! Venite tutti fuori! Ho detto tutti! Credevo di essere stato abbastanza chiaro! Non dovevano esserci veri elfi e fate alla tua festa! Ma non appena ho voltato le spalle, tu ti sei messa ad invitare tutti gli elfi e le fate che esistono sulla Terra! Dov'è Jake? Qui non lo vedo! Sarà finito in un pacchettino per gli ospiti! Non preoccupatevi, niente panico! Aspettate qui! Cos'è questo? Ottima! Io adoro la torta! Scusate, Lucy ha perso uno dei suoi giocattoli! Ah, eccolo! Grazie tante papà di Lucy! Il suo spettacolo di magia era forte! Sì, è piaciuto proprio a tutti! Oh, davvero? Questa è stata una festa di compleanno splendida! Sono contento che tu ti sia divertita e alla fine nessuno ha visto i tuoi piccoli amici! E quindi possiamo dire che è andato tutto a meraviglia! Si torna alla normalità! Sì, tranne che per l'unicorno rosa! Oh, è vero! L'unicorno rosa! Io me ne ero dimenticato! Non preoccuparti! Possiamo tenerlo qui nella stalla insieme alle mucche! Che sta succedendo? Perché stiamo fruttuando? Perché non c'è forza di gravità nello spazio? Non veniamo attratti verso il basso! Scusate, ho dimenticato di accendere il motore che genera la forza di gravità! Guardate quante bellissime lucine colorate! Ammirate tutti la grandiosità e la supremazia della tecnologia aliena! Dov'è la toilette? Noi alieni non andiamo alla toilette! È davvero incredibile! Sono talmente più avanti di noi che ormai non hanno neanche bisogno di andare alla toilette! E se mi viene voglia, come faccio io? Dovevi andarci prima di partire! Forse ce ne sarà una sulla spiaggia? Ci sono le spiagge sul pianeta Bong? Il pianeta Bong è fatto soltanto di spiagge! Wow! Solo di spiagge? Sì! Fa molto caldo e splende sempre il sole! Adesso vi andrebbe di mangiare qualcosa? Sì, grazie! Questa macchina può preparare qualsiasi cibo o bevanda che desideriate! Posso avere un'aranciata, per favore? Certo! È squisita! Posso avere un sandwich al burro di arachi di banana e prosciutto? Certo! È sorprendente! Può fare anche la gelatina? No! Crea qualsiasi cibo che esista in tutto l'universo! Ma non la gelatina! Ed è un vero peccato! Perché a me piace da impazzire! Tranquillo! Posso farla apparire io? Tata Susina! Cosa? Un po' di gelatina non farà del male a nessuno! Gelatina magica, grazie! Oh! Ma qui ce n'è troppo poca! Io voglio mangiare tantissima gelatina! Ok! Gelatina magica allora! Ancora! 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 Inondazione! Un'inondazione di gelatina in una cabina pressurizzata di un'astronave! Tata! Questa volta hai superato te stessa! Grazie, vecchio saggio elfo! La gelatina magica è davvero squisita! Cos'è stato? Stiamo rallentando! Il pianeta Bong è fatto di sabbia! E sabbia! E sabbia! Il pianeta Bong è distrutto! E quindi questa non è una vacanza? No! Questa è una missione di soccorso, vostra maestà! Sì! Mister Furbizia è venuto qui per salvarci! Ti prego, mister Furbizia! Fa crescere le piante subito! Eh, dunque... Ho riflettuto molto a lungo su questo problema e sono arrivata alla conclusione che io, mister Furbizia, ho una soluzione! Attimo! Quindi, senza ulteriori indugi, passerò la palla alla mia preziosa aiutofata qui presente! Io? Sì, ora fa apparire le piante, per favore! Oh, va bene! È davvero bellissimo! Grazie! È stato un piacere! E ora puoi farne crescere altri su tutto il pianeta? Cosa? Su tutto il pianeta? Ma sono solo tata Susina! Non sono certo un famoso esperto botanico interplanetario! Vuoi dire che... Sai fare questo e basta? Sì! Non è facile creare un fiore! Ha moltissime sfumature! Oh! Quindi, mister Furbizia, la verità è che tu non sei in grado di salvarci! Eh... Ecco... No! Ti ringrazio per averci provato! Così? Il pianeta Bong non sarà mai più ricco di vegetazione e meraviglioso come un tempo? No! Aspettate un attimo! Alle piante serve acqua per crescere! Sì! Allora, se ci fosse moltissima acqua, potresti avere anche moltissime piante! Certo! Quindi ci basta soltanto riuscire a far piovere! Questo lo so fare! La pioggia è più semplice delle piante! È solo un po' d'acqua! Allora ti prego! Fa scendere la pioggia! Bacchetta magica, ti chiedo un favore! Ci serve dell'acqua! Fa piovere per ore! Ma non sta succedendo niente! La magia non ha funzionato! Sì! Ha funzionato! Guardate! Nuvole! Sì! Ce ne sono moltissime! E le nuvole portano... Pioggia! Pioggia! Sta piovendo! Ci piacerebbe molto unirci a voi, ma credo che siamo un po' troppo grossi per entrare nel vostro sottomarino e... Che cosa vi succede? La sto rimpicciolendo! Ora attacca a me! Rimarremo così piccoli per sempre! Oh no! L'incantesimo si esaurirà presto e voi tornerete grandi! Tutti a bordo! Prepararsi per l'immersione! Oh no! È meraviglioso! Guarda, papà! Sì! Qui è tutto molto bello! Sto persino cominciando a divertirmi in questa magica avventura! Vedrai, papà! Il mondo degli elfi e delle fate è bellissimo! Sì! Chissà perché ero così preoccupato quando mi hanno ristretto con la magia! È fantastico essere piccolo come questi splendidi pesciolini! Non tutti i pesci del lago sono così piccoli! Non dimentichi il pesce di questa mattina! Il grande e grosso Perry! Da quel che ricordo era grande... Così, più o meno... Forse prima che eri piccolissimo, papà! Ora sarà più o meno... Grande così! Oh, guardate! È Barry! Che cosa vuole da noi? Si vuole mangiare il sottomarino! Vuole mangiare qualsiasi barca con me a porto! Ora tenetevi forte! Innesto la retromarcia! Veicolo in retromarcia! Veicolo in retromarcia! Veicolo in retromarcia! Adesso andiamo avanti! Non funziona! Barry è troppo veloce! Presto ci mangerà! Non preoccuparti, Lucy! Siamo già stati nella sua pancia e ci è andata bene! Mi fa piacere saperlo! Wow! Ciao, Barry! Non riesco a capire perché non ci sta mangiando! Magari si ricorda che papà è stato gentile con lui questa mattina! Hai ragione! Lei l'ha liberato! Fatto! 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 Io ho una gran fame! Già, anch'io! È l'ora del picnic! No! Cestino magico, per favore! Alt! Magico! Tata Susina, non starai sventolando in giro la tua bacchetta! Non ho potuto portare la mia bacchetta! Non era permesso nella vostra sciocca missione! Ah, è vero! Comunque, il cestino magico non ha bisogno della bacchetta per funzionare! Esatto! Devi solo chiedergli quello che vuoi! Cestino magico, sulla luna ti imploro, facci dei panini al formaggio e pomodoro! Pip-pip! Urrà! E adesso come dessert... Gelatina magica! Gelatina magica! Scusa, Tata! Non vogliamo un'inondazione di gelatina! Andrà tutto bene! Tata Susina, voglio che ti concentri molto attentamente su quello che stai facendo, è chiaro? Rilassati! Cestino magico, per favore! Gelatina! Che sto facendo? Oh no! Ho dimenticato di dire non troppa! Ma! Rinondazione di gelatina! Tata! Questa volta è davvero troppissima! Oh, cielo! Oh! Rinondazione di gelatina! Oh, che succede? Succede che la Tata ha riempito il mare della tranquillità di gelatina! Tata Susina! Tutte le mappe della luna dovranno essere modificate! Il mare della tranquillità, a causa tua, è diventato il mare della gelatina! Scusa! Scusa? Gli alieni ora saranno molto arrabbiati! Gelatina! Ma agli alieni piace la mia gelatina, se la stanno divorando! Gelatina! Gelatina! La adorano! Forse dovrei farne ancora! Cestino magico! No! Basta Tata! Ti proibisco di creare dell'altra gelatina in questa missione! Ma guarda gli alieni, hanno dei faccini così tristi! Sono ancora affamati! Sarebbe più divertente se attaccasse la coda a un drago! Ah! Ah! Mi pare che la festa delle gemelle sia cominciata! Fa sparire subito il drago! Come vuoi! Cercavo solo di ravvivare un po' la festa! Metterò anche tutte le bacchette magiche degli adulti in biblioteca! Chiudo! Adesso è il momento del mio spettacolo! Uriah! Regina Cardo, prego, scegliete una carta! Oh oh oh! Non fatemela vedere! Allora, che carta è? È un due di cuori! Ah, la vostra carta è un bel due di cuori! Questo è il peggior trucco che abbia mai visto in vita mia! A me invece è piaciuto! Come avrà fatto? Ora il mio prossimo trucco che consiste nel trasformare me stesso in un topo! Oh! Forza piccolini! Dovrete aspettare dietro a questa porta! Ci vorrà un attimo! Ma come farà a trasformarsi in un topo? Mi metterò queste orecchie finte e questo naso e poi... Ma forse non è stata una buona idea chiudere i bambini in biblioteca! Perché? È la stessa stanza in cui avevi chiuso le bacchette magiche! Non vi preoccupate! Il grande mago risolverà il problema! Mi vedranno trasformato in un topo e ne rimarranno sorpresi! Per quanto è brutto il travestimento e quindi funzionerà! Guardate, bambini! Mi sono appena trasformato in un bel... Ciamolina! Ciamolina! Squid! Wow! Non è affatto male questo costume! I bambini hanno trasformato con la magia il vecchio saggio elfo in un vero topo! Squid! Qualcuno di voi può farmi per favore ritornare subito un elfo? No, non possiamo usare la magia perché qualcuno ha chiuso le nostre bacchette in biblioteca! Ah, già! Squid! Oh, buongiorno! Sono venuto a prendere mia nipote Ortica! Beh, ecco, a dire il vero la festa non è ancora finita! Ah, no? I bambini sono in biblioteca con dei pericolosi libri di magia! Ciao, papà! Ma che cosa sta succedendo? Eh, Ben si è cacciato nei guai! Oh! Aiuto! Ah, lo vedo! Aiuto! Aiuto! Flippity flop! Stop, stop, stop! Che cosa avete fatto a quella povera creatura? Abbiamo solo cercato di aiutarla! Betty è triste perché non può volare! Ho capito! Non dovete preoccuparvi perché molto presto volerà da sola! E come? Beh, perché lei è uno di quegli... insetti particolari! È un bruco! Grazie, Ben! Sì, è un bruco! E i bruchi si trasformano! Sul serio? Sì, te lo assicuro! Quindi non dovete preoccuparvi! Ehm, d'accordo! Se volete aiutarla, dovete darle da mangiare delle foglie! Quindi se vogliamo aiutarla a volare, dobbiamo trovare delle altre foglie! Esattamente! Ha bisogno di mangiarne molti! Moltissime! Perché? Lo vedrete! Ma adesso cominciate a raccoglierle! D'accordo! Vediamo chi riesce a raccogliere più foglie! Va bene! Ci sto! Oh, secondo te abbiamo dato a Betty troppe foglie? Sì! Mi sembra che sia diventata... grassa! Ora è impossibile che riesca ad alzarsi in volo! Così va meglio! Ora è del peso giusto! Ehm, paparino! Ma come farà Betty a volare? Ha ha ha! Lo scoprirai! E' ora di rientrare! Oh, questa è Tata Susina che mi chiama! Ben! E' ora di rientrare! Non preoccupatevi, so benissimo quello che faccio! Cestino magico, per cortesia! Dammi un po' di gelatina, ma che non troppa sia! Ne volete ancora? Nessun problema! Attenta, Tata Susina! Oh, signor Elfo, la smetta di agitarsi! Al cestino chiederò... gelatina ancora un po'! Tata, vogliono tutta la gelatina! Oh, santo cielo! Ci vorrà un giorno intero! Devo farne subito molta di più! No, Tata Susina! Ancora, ancora, ancora! Oh! Inondazione di gelatina! Oh! Guarda, la gelatina ci sta portando fuori! Oh! Oh! Inondazione di gelatina! Oh! Oh! Mi pare di udire delle voci! Che dicono? Inondazione di gelatina! Non capisco che cosa stanno urlando! Non so, non riesco a sentire! Inondazione di gelatina! Oh! Oh! Inondazione di gelatina! Oh! 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 Inondazione di gelatina! Oh! Oh! Evviva! Ho di nuovo il mio corno! E io la mia bacchetta magica! E le formiche hanno tutta la gelatina che vogliono! Oh! 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 E' tutto ok, papà! Hai sentito? Suona bene! Ma dovrete suonare solo note alte, maestà! Note alla mia altezza! E questo è da dove salta fuori! Andiamo! Quanto baccano per una piccola creaturità! Oh! I girini! Eccoli! I girini sono diventati rane! Hai visto, principe Solly? Quali girini? Quali rane? Che cosa sta succedendo? Papino! Ti avevo detto che avevo dei compiti da fare, ricordi? Venite, ranocchie! Da questa parte! Questa è la mia camera! E questi sono i miei giocattoli! Cra! 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 Possiamo giocare a nascondino! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Chi c'è c'è? Io sto arrivando! Vi ho trovate! Giochiamo a qualcos'altro! Hop! 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 Ora della nanna, principessa Olly! Tata, saluta i miei nuovi amici! Sofficino, Balzello, Verdolino e... Ben! Ciao! Buonanotte, ranocchietti! Oh, buongiorno, Ben! Vieni fuori a giocare, Olly! Sono un po' impegnata! Ora sto giocando con i miei ranocchi! Ranocchi? Questo è davvero bravissimo a correre e a saltare! Infatti l'ho chiamato Ben! Oh! Pronto? Qui è la signora elfo! Mamma! Sono io! Ben! Oh, Ben! La tua voce è diversa! Sì! Infatti abbiamo bisogno di aiuto! Per favore, vieni in fretta! D'accordo! Ha detto che viene subito! Bene! Grazie al cielo! Mi domando che cosa sia successo! Bambola Susina! Dolce piccolina! Fammi il bagnetto! Buongiorno, Daisy! Buongiorno, Poppy! Sapete dirmi dove sono finiti tutti gli altri? Eccoci! Siamo qui! Le gemelle Daisy e Poppy ci hanno fatto un incantesimo! E adesso abbiamo bisogno di una mano! Ma vostra maestà! Sembra proprio che vi siate cacciati in un gran bel pasticcio! Già! Le gemelle sono particolarmente vivaci quest'oggi! Può cercare di calmarle un po' per piacere! Ma certo! Non ci siamo proprio, Daisy e Poppy! Sono sicura che non dovreste volare così in alto! Volare così in alto! Volare così in alto! Volare su! Nel cielo blu! Ora basta, bambine! Mettetemi giù in questo istante! Povere signora Elfo! Agli Elfi non piace affatto volare! Ormai non ci resta che cercare altro aiuto, bambini! Sarà meglio che chiami in soccorso tutti gli Elfi! Pronto? Qui è il signor Elfo! Signor Elfo? Purtroppo c'è un'emergenza al piccolo castello! Porta tutti gli Elfi! Porta tutti quanti gli Elfi! D'accordo! Correte qui! Correte Elfi! Serve il nostro aiuto! C'è un'emergenza al piccolo castello! D'accordo! No!